Ciao, sono Anna, Anna Baker. Esatto, non smanettate su qualunque cosa stiate usando per ascoltare. Sono io, in diretta e stereo. Nessuna replica, nessun bis e questa volta assolutamente nessuna richiesta. Mangia qualcosa e mettiti comodo, perché sto per raccontarti la storia della mia vita. Anzi, più esattamente il motivo per cui è finita. E se tu hai queste cassette, è perché sei uno dei motivi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.